Il Palazzo Sersanti di Imola ha fatto da cornice al convegno organizzato dall'Associazione Liberi Professionisti Lavoratori Autonomi dedicato al tema della prevenzione dei rischi legati agli eventi sismici nel settore edile. Il forum ha riunito una platea di addetti ai lavori tra architetti e ingegneri per parlare dei terremoti e illustrare le nuove tecnologie di prevenzione nel settore edilizio. Le persone che comprano casa guardano gli aspetti del quotidiano, per esempio dove è posizionata, le finestre, i bagni, le piastrelle del bagno cioè tutti gli aspetti che effettivamente nel quotidiano sono importanti ma si dimenticano dell'aspetto fondamentale che è la sicurezza dell'edificio, soprattutto sicurezza dal punto di vista sismico quando si è ubicati in una zona a forte pericolosità sismica. L'Italia da sempre subisce terremoti, da sempre ogni terremoto porta distruzioni, porta vittime adesso sicuramente con le nuove tecnologie abbiamo la possibilità anche di intervenire in maniera preventiva anche sul patrimonio edilizio esistente e questo ci consente sicuramente di limitare enormemente le vittime e limitare certamente i danni. C'è la possibilità veramente di intervenire sui propri edifici, sulle proprie abitazioni con incentivi che arrivano al 50-80% dell'intero intervento. Ovviamente dipende dal tipo di abitazione, su questo non c'è dubbio. Tutte le tecnologie più nuove cercano di intervenire dall'esterno e ovviamente la loro efficacia c'è per certe tipologie edifici non possono essere per tutti ma se già riuscissimo già solo intervenire su quegli edifici che ammettono tecnologie che dall'esterno consentono comunque ancora la fruibilità ovviamente della casa durante l'intervento faremo un grossissimo passo avanti.